Con la configurazione delle rampe il nodo di Palmanova è quasi pronto? Direi di sì, adesso siamo nella configurazione finale. Per l'ultima azione basta la stesura al tappeto drenante che verrà fatto nei prossimi mesi. Ripetiamo che questa stesura deve essere fatta assolutamente nel periodo primaverile con l'inalzamento delle temperature. Proprio così è l'ultima fase che risente di temperatura e di umidità. Per cui bisogna farlo nella stagione inoltrata, quando non ci sono degli abbassamenti troppo repentini e temperature. Ritengo che tra il mese di aprile e di maggio possa essere fatto. Andiamo nel secondo lotto, primo sublotto del secondo lotto. Parliamo del tratto Porto Ruguraro al Visopoli dove è stato innalzato il varato. Il terzo cavalcavia Teglio-Gorgo è su cinque che ce ne sono? Sì, notate, è stato posizionato il terzo cavalcavia di quell'otto e in questo momento l'autostrada è stata aperta nei tempi regolamentari. Ecco, questo è un sublotto particolare? Sì, è un sublotto particolare perché non è molto lungo, si estende per meno di dieci chilometri, però attraversando un territorio molto antropizzato è molto ricco di sovrapassi, sottopassi, scatolari, per cui non è sempre agevole condurre eccelleramente i lavori. Grazie.